Ciao, sono Nicola Sardino e sono uno degli autori di Un mondo molto stranissimo. Il libro è un libro multidisciplinare e racchiude dieci canzoni che parlano di popoli, di differenze che coesistono, di fantastiche storie e leggende, correlate da storia, da geografia e accompagnati da dieci cartoni animati e tante attività, sia musicali che artistiche. I temi che affrontiamo sono l'importanza della diversità, la meraviglia dell'immaginazione, il prendersi cura degli altri, perché lo sappiamo che insieme siamo più forti. In questa fantastica unione si mescolano e si influenzano in modo armonioso le nostre differenze, dando vita a un mondo stranissimo, anzi, un mondo molto stranissimo.